Musica Viabilità e commercio Udine si divide, abbiamo scelto questo titolo per la trasmissione di questa sera gli speciali del Tg di Udinews TV, ben ritrovati, una serata che dedichiamo ad affrontare i temi caldi di questa estate in città via Mercato Vecchio, la ZTL, i lavori, la nuova riorganizzazione del centro storico nelle intenzioni dell'amministrazione Fontanini tanti spunti, ne parleremo assieme ai nostri ospiti di stasera che andiamo a presentare a partire dalla mia sinistra Pienerico Scalettaris, già assessore alle infrastrutture del comune di Udine, attualmente consigliere comunale di minoranza per il PD poi abbiamo Maria Grazia Santoro, già assessore regionale alle infrastrutture, già assessore in comune a Udine e architetto soprattutto questa sera la sfrutteremo tra virgolette anche sotto questa veste e poi ancora vice sindaco di Udine, assessore alla viabilità Loris Michelini, buonasera Michelini buonasera e ancora Gianni Croatto, presidente dell'associazione degli amici di via Mercato Vecchio nonché commerciante esercente del centro storico assieme a me questa sera per pungolare gli ospiti, Domenico Pecile, buonasera Domenico buonasera a tutti con lui dunque andremo a spaziare sui tanti argomenti che abbiamo messo in questo nostro calderone sulla viabilità e il commercio di Udine partiamo dal caso Sbelli, ovvero dalla decisione nei giorni scorsi della giunta Fontanini che abbiamo ripreso dalle nostre emittenti, dalle nostre emittenti, dalle nostre telegiornali con il sindaco che ha annunciato dunque la partenza dal primo agosto della sperimentazione la riapertura al traffico di via Mercato Vecchio anche con l'ausilio del web andiamo a recuperare proprio i dettagli di questa delibera adottata dalla giunta Fontanini dicevamo si parte il primo agosto con la sperimentazione una sperimentazione che durerà sino al 31 gennaio riapertura di via Mercato Vecchio per vedere che effetto fa Domenico, da dove partiamo? partiamo forse proprio dalla dedicazione del sindaco che ha reso la nostra emittente che ha scatenato il dibattito c'è stata la reazione ovviamente del centro-sinistra per bocca dell'ex vice sindaco Martinez e poi giù a cascata tutto quello che si è saputo in questi giorni sono intervenuti i commercianti, sono intervenute le categorie, sono intervenuti gli architetti quindi il dibattito è caldissimo io partirai magari... andiamo ad ascoltare le parole con il nostro primo contributo del sindaco Pietro Fontanini via Mercato Vecchio per quanto riguarda i lavori è stata per adesso stoppata perché c'è questa sentenza del TAR quindi il progetto va rivisto nel frattempo dovremo fare una fase sperimentale cioè riaprire il traffico la piazza Libertà si sale verso tutta via Mercato Vecchio piazza Marconi, poi giù e si è in via Gemona fase sperimentale che partirebbe quando? ma stiamo lavorando io penso potrebbe partire anche già la prossima settimana perché abbiamo sembrati appuntamento giovedì di questa settimana per fare il punto in giunta sospendiamo la ZTL e quindi le telecamere che controllano il traffico quindi si può salire verso nord via Mercato Vecchio e sendere via Vittorio Veneto attraversando via Vittorio Veneto per andare in via Quileia Ma Susi, ha senso una sperimentazione proprio adesso quando c'è un calo fisiologico dei cittadini? quindi il dato sul traffico non è reale? Ha senso perché la sperimentazione va fatta e siamo in un momento particolare perché abbiamo chiuso due vie d'entrata in città che è via Grazzano e via Poscolle e quindi riteniamo che bisogna dare la possibilità a chi vuole entrare in Udine di poter entrare da un'altra parte e quella che libera è soprattutto via Manning noi vogliamo capire se la causa del calo del lavoro soprattutto della sofferenza che hanno tanti commercianti via Mercato Vecchio è dovuta proprio alla difficoltà di accedervi con la macchina questo per quello facciamo questa sperimentazione per quello per alcuni mesi riapriamo e diamo la possibilità anche di sostare lungo via Mercato Vecchio per vedere se c'è un maggior afflusso e soprattutto se l'economia commerciale riprende Queste dunque le parole del sindaco di Udine Pietro Fontanini partiamo, apriamo la nostra discussione chiamando in causa la voce dell'opposizione oggi qui nei nostri studi Pier Enrico Scalettari già assessore nella giunta ONS Fontanini lancia questa sperimentazione dall'opposizione siete pronti alla mobilitazione? Si, si tratta di un'idea che non ci vede affatto d'accordo ma l'avevamo detto già in campagna elettorale quindi ben prima delle elezioni l'impressione è che si cerchi di nascondere dietro questa idea di sperimentazione un'idea di città che non condividiamo affatto ho sentito le parole del sindaco dire che sono state chiuse due vie di entrata alla città come via Graziano e via Poscolle è semplicemente non vero perché via Poscolle non è una via di entrata alla città ma di uscita per cui se questa è la forte giustificazione su cui si basa questa idea è già fa acqua e l'altra il ragionamento per cui è difficile arrivare in macchina via Mercato Vecchio ma è smentito dai fatti perché c'è un parcheggio che è quello di Piazza Primo Maggio che forse è difficile perché ormai è sempre pieno è sempre utilizzato forse per quello intendeva che è difficile arrivare ma è vicinissimo al centro e appunto è sempre più utilizzato del resto quello che a me lascia al di là dell'idea di città che noi non condividiamo e che è del tutto antistorica ed è l'esatto contrario di quello che avviene in tutte le città del nord d'Italia ma anche d'Europa quello che a me non è ancora chiaro è qual è il metodo visto che si parla di sperimentazione il metodo diciamo scientifico se così vogliamo dire per valutare se l'esito sarà positivo o negativo non ho capito se chiederemo i bilanci ai commercianti forse il loro fatturato per fare una differenza tra prima e dopo se verranno valutati altri aspetti tipo l'inquinamento e via dicendo questo non è ancora dato saperlo mi sembra che c'è una fretta nel fare questa operazione che sa tanto di così moneta di scambio elettorale ma francamente di sperimentale nel senso tecnico scientifico al termine perché non ci sia assolutamente nulla Scalitari si è chiamato in ballo credo i commercianti principalmente ecco Corato siete davvero convinti che esista l'equazione viabilità uguale ripresa del commercio quando tutti i dati nazionali ma anche europei vanno in controtendenza dicono che le isole pedonali funzionano perché fanno affluire più gente più famiglie più bambini più anziane noi ci siamo accorti da sempre che da quando è entrata in funzione una chiusura del via Mercato Vecchio abbiamo calato notevolmente sempre gli incassi quindi questa è una questione chiara semplice sono i corrispettivi e proprio per rispondere a quello che diceva anche a Scalitaris noi faremo vedere i nostri corrispettivi per vedere se è andata meglio o andata peggio l'unica cosa che dico è che non capisco perché tutta questa confusione per sei mesi di apertura di via Mercato Vecchio dopo 25 anni di chiusure quindi una prova potremmo farla non capisco perché loro hanno sempre voluto non farla perché avevano proposto anche altre alternative ma ci hanno sempre detto di no in quanto era fuori dal mondo quindi oggi ma scusa quindi oggi siamo più che contenti che il sindaco abbia provveduto a questa riapertura di prova e io sono convinto che non sarà la fine del mondo e vedremo cosa succede il problema per me sarà un altro e se va bene se veramente gli incassi veramente aumenteranno cosa si farà poi è un problema perché tutta questa confusione per sei mesi passiamo alla ex assessore comunale di Uline Santoro per capire anche qual era la sua visione al tempo e che cosa ne pensa di questa decisione della giunta Fontanini ma prendo a prestito una frase che ha detto il già vice sindaco Giacomello è un passo indietro di 30 anni nella qualità della nostra città tutte le città medio piccole come Udine in Italia prima di tutto soprattutto dove abbiamo dei centri storici di una qualità straordinaria hanno guardato alla qualità dell'acquisto non alla accessibilità spicciola perché tutte le attività che sono in via Mercato Vecchio sono attività di grandissima qualità non è un caso che hanno scelto dopo la ZTL di situarsi in via Mercato Vecchio negozi di altissimo target come quello ad esempio di Cumini questa è una scelta aziendale che è stata fatta dopo la ZTL quindi noi abbiamo una via che è la nostra via del corso di Milano dove le grandi firme, le grandi marche ricordo Duca d'Aosta ricordo Lex Profili ma potrei dirgli tutti quelli che sono nei due lati compresi i due negozi di Croato che sono sull'altro lato abbiamo le eccellenze commerciali della nostra regione gli imprenditori più importanti della nostra regione che hanno investito in centro storico dopo la chiusura del centro storico perché non riusciamo a far diventare questa localizzazione un valore aggiunto e lo trattiamo come una qualsiasi via che non abbia alcuna qualità mi viene raccapricciò a pensare che ci saranno le bombolette che disegnano gli stalli blu nella nostra via Mercato Vecchio il salotto della nostra città che l'amministrazione precedente ha dimostrato come si può utilizzare pensiamo al concerti pensiamo alla maratonina pensiamo cioè a tutte quelle iniziative Friuli Doc che rendono davvero questo luogo un luogo di grande attrattività è un passo indietro nel tempo ma soprattutto siccome io sono dell'idea che chi vince deve governare verso dove non si sa lo ha detto anche Croato facciamo una finta sperimentazione senza dati senza nulla per andare dove? ecco qui abbiamo ecco però qui abbiamo il vice sindaco non credo che quella sia la qualità della città comunque no scusi Croato qui abbiamo il vice sindaco quello che poi dovrà prendere assumere la decisione perché anche il sessore ha la viabilità allora vice sindaco sperimentazione se dovesse andare bene come dice Croato cosa si fa? se dovesse andare male cosa si fa? qual è il piano generale che lei ha in testa per la città di Udine? intanto devo dire all'architetto Santoro che purtroppo per vent'anni non è stato deciso quasi niente siamo rimasti sempre alle solite si apre si chiude ZTL zona pedonale quant'altro quindi per vent'anni si è solo discusso si è solo parlato a di là di qualche chiusura sporadica per la maratonina per filuridocch eccetera addirittura hanno fatto sperimenti sulla pietra presentina se vi ricordate un pezzo della via è ancora martoriata da questa pietra un altro pezzo è lasciato libero ci sono paracchi lavori da fare non è stato fatto in passato nessuno studio di quello che poteva essere il futuro arredo della via e quant'altro quello che non hanno fatto quello che vuole fare lei noi vogliamo fare è innanzitutto abbiamo preso atto di una cosa molto grave che sono i varchi con le telecamere che non hanno fatto il loro dovere perché a monte non è stato fatto non è stato dato un input purtroppo la giunta non ha prorogato la fase sperimentale ha detto al ministero che va tutto bene quando in realtà i cittadini non sono stati informati chi credeva di essere in regola con il passaggio perché era residente non ha fatto molti di loro non hanno fatto le domande addirittura c'è stato un problema molto grosso la ZTL così com'è come regolamento va rivisto perché ha 24 tipi di accesso tanti telefonano al comando gli dicono ok entra per una serie di ragioni nessuno controlla cosa fa cosa non fa tant'è vero che già adesso abbiamo un percorso enorme di auto su via Mercato Vecchio e su via Manin e quant'altro perché entrano tutti quelli che vogliono entrare entrano cosa succede succede che li fanno entrare senza dover registrarli e quindi hanno preso le multe adesso abbiamo 6.000 multe da gestire abbiamo pensato la prima cosa da fare le telecamere così come sono strutturate in questo momento vanno riviste va rivisto il regolamento delle telecamere va rivisto l'uso delle telecamere le concessioni e quindi abbiamo pensato di sospendere non si poteva sospendere le telecamere così visto che due mesi prima l'aggiunta aveva detto che tutto andava bene e allora abbiamo preso anche grazie a questa decisione il fatto di fare l'esperimento su via Mercato Vecchio che riguarda sia possibilmente il blocco delle chiusure di tanti negozi voi sapete che sta chiudendo uno o due al giorno sia su via sulle vie sopra via Mercato Vecchio via Vittorio Veneto ed è quasi desertificata eccetera eccetera abbiamo pensato di fare come anche promesso in campagna elettorale una fase sperimentale della durata di sei mesi ma qual è l'intento di questa fase sperimentale innanzitutto capire cos'è via Mercato Vecchio con le auto senza auto come dobbiamo rivedere la ZTL quali sono le vere zone pedonali vere non fitizie zone pedonali quali sono le vere zone a ZTL ma ZTL con una revisione del regolamento chiaro evidente dove non entrano tutti chi vuole entrare ma dove sono regole precise chiare e soprattutto qual è la viabilità che dovrà prendere tutto il centro storico e la prima periferia la luce anche della rivisitazione delle linee dei bus che a breve dovremmo ridefinirle completamente anche qui dobbiamo fare un tutt'uno cosa vogliamo fare noi vogliamo entro breve tempo un mese un mese e mezzo dare la possibilità a tutti i cittadini agli ordini professionali alle categorie economiche a chi vuole diciamo proporre al comune di Udine qual è l'assetto sia per quanto riguarda la zona pedonale sia la ZTL le zone ZTL sia le piste ciclabili che sono da rivedere o da rifare o da vedere di nuovo nel posizionarne di nuove sia addirittura anche il trasporto pubblico locale che sembra di capire abbiamo qualche chilometro in più anzi non poco questo tra l'altro devo chiedere anche all'assessore perché hanno fatto di nuovo ricorso e quindi non abbiamo ancora la certezza spero che si definisca anche questo aspetto quindi noi daremo a tutti i cittadini alle categorie economiche un dossier dove gli chiederemo espressamente cosa volete cosa proponete dopodiché è chiaro che saremo noi a decidere è chiaro che prenderemo una decisione non ci nascondiamo la prenderemo sarà definitiva non accontenteremo tutti ma daremo finalmente un assetto definitivo all'intero centro storico alla zona vera pedonale alla ZTL e a tutti i trasporti quindi anche lì ci sarà una proposta nel vedere se è il caso di fare un trasporto pubblico locale con navette o comunque bus meno impattanti farli in misura circolare per poi farli transitare quelli che vanno fuori comune e entro comune rivedere le vere le vere le vere piste ciclabili non dimentichiamoci che abbiamo l'Alpe Adria a metà tanta carne al fuoco Michelini poi ci ritorneremo però vorremmo richiamare in appello scalettaris perché appunto il vice sindaco spiegava che questa revisione di via Mercato Vecchio parte anche dal caso delle telecamere come rispondete? ma che scopriamo cose nuove ogni giorno io qua ho la delibera della giunta comunale non c'è una sola parola sulle telecamere per cui scopriamo oggi che la sperimentazione è dovuta al mancato funzionamento delle telecamere quando ne ha delibera di giunta non se ne fa minimamente 100 del 5 luglio ma questo non fa che confermare anche sentendo questi magnifici propositi anzi anche molto così ecumenici da parte del vice sindaco che il problema è sempre quello non c'è un'idea di fondo mentre noi facciamo presente che in tutta Europa funziona diversamente e che ci sono anche degli aspetti di cui non ho mai sentito parlare tipo ambientali di mobilità sostenibile eccetera qua si parla di tantissime cose con questo pregevole intento di coinvolgere la città eccetera eccetera e poi decideremo tradotto non sapete cosa decidere quindi prendete tempo e questo è deciso da 20 anni scusate potete pretendere che in tre mesi decidiamo Michelini scusi un attimo voglio obiettare una cosa che poi ha detto Michelini nel 89 è stata istituita la ZTL a Udine ed era la seconda città d'Italia Milano e Udine Milano ha eseguito hanno eseguito altre centinaia di città però qui è vero che è mancato un progetto definitivo perché la pedonalizzazione è sempre rimasta monca io ricordo gli esperimenti dei panettoni le aiuole cioè perché non avete avuto il coraggio in vent'anni di dire si fa la pedonalizzazione spinta e poi si è fatta a metà si è fatta a nì si è fatta a so ma questo è questo è oggettivo per cui questo non ho mica problemi a riconoscerlo a parte che nel 89 io avevo sei anni per cui capisco che quindi comincia a essere un po' in alto tempo e per capire da quando siamo partiti sicuramente questo è stato un errore da parte della giunta precedente di cui facevo parte per cui me ne prendo anch'io la responsabilità di non aver mandato fino in fondo questo progetto devo dire però che noi il progetto di ripavimentazione di via Mercato Vecchio con le sottostrutture e con tutto quanto l'avevamo approvato due anni fa poi c'è stato un legittimo ricorso presentato da alcuni che hanno che è stato diciamo parzialmente accolto e quindi si è bloccato tutto se ripeto legittimo aver fatto ricorso se quel ricorso non ci fosse stato a quest'ora avremo già la via finita solo via Mercato Vecchio non l'intero città non l'intero centro storico cioè non si può lavorare a pezzettini no infatti noi stiamo lavorando in un progetto ho detto prima forse non mi hai ascoltato noi siamo arrivati un mese e mezzo due mesi fa abbiamo detto che faremo un esperimento ma riguarderà l'intera città l'intera città prenderemo delle decisioni entro sei mesi non lo so se entro nove è probabile che riguarderà tutta la città ma vicesindaco sarà a sentimento le valutazioni saranno a sentimento noi abbiamo già un nostro progetto però vogliamo e qual è? ma come qual è? l'abbiamo scritto in campagna elettorale se non l'avete eletto non è colpa mia magari forse è utile ai cittadini sentirlo di nuovo lo torno a dire grazie ecco allora il nostro progetto è quello in breve in breve certo è quello di definire il vero centro storico la zona pedonale che potrebbe essere anche allargata con a fianco le ZTL riviste come regolamento alla luce di esperimenti che faremo che stiamo facendo e quindi sarà nostro compito recepire tutte le informazioni utili compreso anche la parte economica che è importantissima perché non possiamo dimenticare che noi è inutile che facciamo una grande zona pedonale che riguarda tutto il centro storico se poi abbiamo i negozi chiusi o non ci sono i turisti in città o c'è qualche cosa che non Udine non è Milano via Mercato Vecchio non è via Napoleone cioè voglio dire stiamo con i piedi per terra cerchiamo di capire quali sono le vere eccezze della città dei cittadini udinesi ma non solo perché devono capire anche quello che è il friuli storico che rientra a Udine ecco perché deve essere allargata e poi la red urbano deve essere fatto gestito non possiamo fare come è stato fatto fino adesso una via sì lago del Pecile poi facciamo un pezzo di via Mercato Vecchio poi torniamo a rivedere via Aquileia poi cioè devo dire non c'è un progetto invece volevamo avere un progetto definitivo e chiudere anche Domenico la parentesi il ricorso al TAR croatto? il ricorso al TAR non l'abbiamo fatto ci è costato molto abbiamo vinto vuol dire che forse non avevamo tutti i torti nel dire che c'era qualcosa che non funzionava ma il problema base qual è? perché questa amministrazione che da dieci anni che diceva che chiudeva Mercato Vecchio ha voluto chiudere subito nell'ultimo anno ma per quale motivo? io non capisco perché se l'avessero fatto dieci anni fa il primo o il secondo anno come vogliono adesso che faccia Fontanini tutto è subito non avrebbero avuto nessun problema perché ancora non eravamo così arrabbiati perché il mercato stava calando sempre di più l'hanno fatto in un momento sbagliato quando noi si accorgevamo che era sempre peggio non solo noi ma tutto il centro storico un po' la crisi sta per tutto e quindi abbiamo deciso di spendere per noi tantissimi soldi e fare questo ricorso che torno a dire abbiamo vinto quindi vuol dire che anche l'amministrazione precedente ha fatto troppo poco quando ha deciso di chiudere noi gli chiedevamo solamente una promozione uno studio almeno di tre anni su cosa volevano fare sul mercato vecchio niente quattro statuette e basta non è giusto non è corretto la Santoro vedevo che era un po' agitata un po' agitata perché correttamente secondo me l'amministrazione precedente ha ritenuto che non fosse sufficiente chiudere e basta ma che ci fosse necessario un progetto di riqualificazione per rendere quest'area un'area davvero pedonale per fare questo ci vogliono i soldi Michelini e quindi si va a pezzi perché i soldi ci sono in modo non a cascata ma per progetti specifici sono arrivati i fondi su via mercato vecchio il patto di stabilità ha messo la sua parte nel che era stato fatto da tondo per ritardare gli appalti sappiamo sono stati dati gli spazi finanziari al comune di Udine per far questo è partita la gara e due anni fa è iniziata la vicenda che avrebbe visto quindi tutta questa amministrazione il secondo onsel così come li chiamiamo è stato occupato a fare il bando e l'appalto per quanto riguarda la risistemazione di via mercato vecchio questo mi scusi ma la metterei sulla sua sedia e ne riparliamo fra cinque anni per vedere quali sono le procedure che lei come sa due anni per il ricorso quindi voglio dire sono cose che fanno parte di questa cosa la cosa che io veramente sono abbastanza daudinese che abita in centro storico perché anche questa forse è un'esperienza che non tutti in giunta hanno ci sono i residenti in centro storico la circoscrizione 1 è la circoscrizione più seconda circoscrizione più popolosa della città noi non dobbiamo lasciare il centro storico come via mercato vecchio pensiamo a via savorniana quanta gente abita pensiamo anche alla piazza duomo quanta gente abita nei grandi complessi pensiamo a via gemona quanta gente abita non ho sentito parlare di residenti io credo che il tema della qualità ha parlato di udinesi no di residenti ho detto che sono stati avvisati i residenti sono trovati spiazzati quindi io credo che questo sia un grande passaggio indietro ma soprattutto è assolutamente contraddittorio con il fatto che la stessa giunta ha messo i tavolini in via poscolle cioè in via poscolle temporaneamente chiusa ma cosa c'è viene attrezzata per farla vivere ma cosa c'entra mi meraviglia allora il salotto della città che è via mercato vecchio non viene attrezzata per farla vivere ma si pensa che un via vai di auto renda i commercianti più mi lascia fare una domanda provocatoria al commercio la facciamo sul commercio io vorrei ritornare dopo la pausa pubblicitaria perché il titolo appunto viabilità e commercio mi piacerebbe fare una domanda a un operatore commerciale dovrei ripartire da lì proprio dopo la pausa ci fermiamo per la pubblicità poi avremo anche alcune voci degli udinesi perché abbiamo chiesto anche a loro che cosa ne pensano di questa chiusura o riapertura di via mercato vecchio allora break pubblicitare poi di nuovo assieme con i nostri ospiti grazie a tutti grazie a tutti